Dunque, Sara Assicurazioni è molto appassionata al tema delle smart city. Lo sviluppo della capacità di connessione in maniera esponenziale sicuramente cambierà il nostro stile di vita. In particolare, grandi quantità di dati itereogenei, potenza elaborativa, infrastrutture connesse e intelligenza artificiale sono gli ingredienti da tenere in attenzione da parte degli assicuratori al fine di progredire nella capacità predittiva e prescrittiva. L'idea è quella di intercettare idee innovative che creano valore in campo assicurativo e anche supportarle finanziariamente con lo scopo ulteriore di creare una partnership di identità culturale con un'azienda tradizionale.